e potere pelato sono tornato buonasera a tutti evviva 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 ciao come state cosa avete fatto avete passato un buon weekend siete carichi pieni di energia per questa live bellissima che vi porterà nell'allegro mondo del fumetto come mai prima d'ora ma ciao e grazie comprate queste magliette con chi come potete averla anche voi è semplice basta scrivere punto esclamativo pampling punto esclamativo pampling andate sul sito pampling e usando il codice sconto pelati e fumetti che in realtà non è un codice sconto ma fa niente avrete il regalo dei fantastici calzini evviva grazie micchi per la salta quindi correte 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 a comprare le magliette detto questo buonasera mi dispiace anton mi dispiace passerà io ho letto oggi pomeriggio sin city quel bastardo giallo frank miller sempre al top sì al tempo era al top buonasera zagor tex come non tornerei mai più tex ti mi manchi come tex era più bello quando eri tex però va bene anche così insomma ciao claude come stai riuscirò a far durare questa live un'ora invece che due ore come tutte le domeniche spero di sì grazie jason per la sabra evviva ma tutte sabre che non fanno aumentare il numero delle sabre sono felice di questa cosa e però non ho resettato no non ho resettato no non ho resettato beh fa niente se arriviamo a 10 compro comunque un fumetto perché sarò felice mi manca ancora una settimana e un giorno per tornare al vecchio nick evviva e pensa se torni al vecchio nick e scoppia che se l'è fregato qualcuno io sto leggendo batman fortezza non ho ancora tornato ma mi sta più tutte me ne hanno parlato malissimo di batman fortezza ma non l'ho ancora preso prima o poi lo piglio però ma dai noi ti vogliamo due ore invece di un'ora sì ma io c'ho sonno anton di h cioè c'ho sonno sono stanco volevo anche fare delle robe ciao gur tag comunque noto con piacere che siamo secondo twitch in 4 in live che è un bel numero secondo me e non sono a fuoco ora sono a fuoco sì 9 siamo passati a 9 ottimo vabbè me lo hanno fregato ne faccio uno simile bravo così si fa tipo texiano 90 texvilleriano 90 texolano 90 ora vi conto aspetta allora zagor gurtac anton elf mickey gorgio jason mi mancano le dita picpac crada alepoz no siete più vedi sono di più gambarello anton di h non lo so comunque e ciao ma ora siamo a 36 però potere pelato eh anch'io ci sono ci sei anche tu no vi leggevo dalla chat non dalla in realtà c'è la lista delle persone in live ma è partito si avvicina l'hype train ehi se qualcuno si sabba potrebbe partire l'hype train facciamolo arrivare al livello 7 io ci provo magari funziona ah abbiamo tutti bisogno dell'hype train presto presto usate il vostro prime adesso se vi è scaduto tipo non lo so norman tutti voi che avete vedo che avete il prime ma non siete sabbati a questo bellissimo canale che vi vuole bene vi vuole bene il canale guardate le mie sopracciglia come vi vogliono bene vi ricordo che se non riuscite a spammare il potere pelato è perché non siete più sabbati ma detto questo che stanchezza mamma mia stavo cercando oggi stavo cercando il numero uno della precedente run di ironman ma non l'ho trovato tu non ci vuoi bene ma come no se mi stupisco anche di vederti nelle storie di salda per sti scrivo guarda ma sei tu e tu mi dici cazzo vuoi perché ridi stronzo è bello come mai perché lo volevo vedere se lo trovavo che volevo vedere se stava bene incorniciato anche quello ma non lo trovo non so dove l'ho messo perché avevo la variant quella di romita non di romita di alex ross ma boh non so dove l'ho messo anche perché avendo solo un numero non so dove l'ho messo io pensavo forse del posto del fumetto non avevo visto no 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 era eri tu che c'eri in mezzo al al coso infatti avevo guardato la storia ma questa la conosco chi è? è micchi sì anche gli altri conoscevo però era simpatico c'era a ridere sì tu sei tu e sì e tra l'altro mi ha scritto frekt oggi e mi ha chiesto ehi ci vediamo ma io avevo dei miei zii a pranzo una nuvola una nuvola è passata una nuvola scusate è cocciante ma mi viene così comunque comunque eeeh mi ho fatto vedere il Gundam in live mi sa di no ci sarà la Comics and Games di Milano no perché non è a Milano non vado a in una fiera che si chiama Milano Comics e poi è a Busto Arsizio che non è neanche provincia di Milano pareri su Love is War caruccio grande zia che fa da mangiare è Umberto la domenica è vero no mi sono abbonato a Pipetrain aspetta no mi sa che ce lo siamo perso l'Ipetrain si sa che se n'è andato l'Ipetrain se n'è andato anche se ti sei abbonato mi sento impeccatato e dovevi perché non hai mandato il coso l'Ipetrain è notifica sensibile se tu non mandi la notifica lui non lo sa non è funziona così bisogna organizzare una fiera a Lodi la organizziamo a Lodi ma la chiamiamo tipo Brescia Comics o Pavia Comics una roba del genere cioè senza senso a cazzo di cane ma non è non è Interland non è Milano cioè cazzo è provincia di Varese è provincia di Varese perché dovrebbe chiamarsi Milano Comics tra l'altro la cosa ridicola è che Milano Comics e Novegro litigano e quindi fanno le fiere lo stesso giorno per rubarsi la gente e io ho una mezza idea di non andare né in una né nell'altra non peraltro ma perché io allora a Novegro ci andrà allora a Milano Comics ci andrei anche ma devo andarci in macchina non ho la macchina non ci vado e vabbè chiamala in un altro modo Alepots chiamala che ne so la boh Roderick Comics i Varesini si sentono milanesi? no infatti secondo me si incazzano pure loro Ardsizio Comics bello Ardsizio Comics ostras sembra una cosa porno però e boh vieni a Lodi e andiamo insieme ma dove? a Milano Comics a Raspadura eh? frontespizio Comics bella? ma no poi chiamala non lo so tipo la festa dell'unicorno ti inventi un nome la la Drago Comics fest no la 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 così layout comics fest perché layout vabbè la mega manga comics fest cos'è belgia? non so cosa sia belgia amichi la mega manga comics fest dove va il nome? poi sono sempre la stessa roba fire comics fire comics figo sembra sembra una casa editrice però figo un posto qui a Lodi si chiama bilgiardino non sapevo non conoscevo genova comics però genova comics la fai tipo in provincia di torino o in provincia di la spezia ma torino invece di più perché è questo il belge bisogna confondere comunque mi piacerebbe molto andare a letta una comics sono andato a guardare sono andato su su booking a vedere le camere mediamente una camera a giugno a catania costa 100 euro no con tutto l'amore del mondo no siccome ormai che posso farle in giornata perché mi sembra un po' ridicolo poi già che vado a catania magari faccio un paio di giorni no 300 euro per andare a etna comics non ce li ho non dopo essere andato in giappone e in a napoli napole mi ricordo se siete di napoli o dintorni o se andate al comic con che mi trovate là in sicilia fa caldo puoi dormire all'aperto mi sembra un'ottima idea facciamo etna comics c'è il camping etna comics nix non sono io il mio audio non è fuori sincrono sei tu ora il mio audio non è fuori sincrono sei tu ora il mio audio non è fuori sincrono poi se intendi che l'audio è fuori sinc di qualche millisecondo spoiler a twitch uno due tre uno due tre non è fuori sincrono se faccio camping a catania dici che faccio i soldi non lo so che ne so al massimo a capo verde non ci incontreremo mai a napoli al massimo a capo verde ma ti stai lamentando dei millisecondi di coso su coso si probabilmente sarai in grado di risolverlo ma non ho idea di come farlo probabilmente è più probabile che si rompe rispetto al boh se intendi il millisecondi cioè del tipo che non è perfetto non è una tv no abbastanza fuori sinc non sono io sei tu prova a cambiare browser prova a cambiare app prova a cambiare qualcosa ma non sono io perché ce l'ho aperto di qua cioè nel senso e non è fuori sinc poi può essere che ci siano appunto dei millisecondi ma quello grazie a Artana draw per la sub due mesi top prova a mettere col telefono prova microfono non trovo più i filtri non mi ricordo più dove stanno le cose dell'audio forse non le posso aprire perché sono in live ah no sono qua microfono qualità audio avanzate ma in realtà è pari cioè quello del microfono è non ho mi allora finenza degli avvisi o meno meno tre microfono dove cazzo sta microfono oddio effettivamente ho 5 millisecondi in spostati vediamo così però non so se cambia chiudi è fuori 5 perché non sei abbonato ora aspettate faccio un'altra prova perché non sei abbonato aspettate faccio un'altra prova no mi sembra meno sincato adesso 1 2 3 no mi sembra meno sincato adesso 1 2 3 sì è meno sincato grazie groggio omberta audio avanzate 1 2 3 4 facciamo 10 vediamo con 10 come va fumetto Tony Stark ha fatto anche cose buone grazie gara del deserto benvenuto aspettate che faccio una prova 1 2 3 prova 1 2 3 prova boh 1 2 3 boh no forse era meglio prima non lo so lo rimetto come era all'inizio aspettate che devo ritrovarlo però eccolo qua allora proprietà audio avanzate dove cazzo è? ok bravo rimetti con l'inizio che andava bene ora va bene va bene sono sconizzato che hai detto di bello Umberto Cian lo dice a tua sorella comunque ciao Dante11 potere pelato sta arrivando l'hyp train presto 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 sabbatevi tutti come se non ci fosse un domani in questo momento così potremo raggiungere nuove esclusive vette e guadagnare incredibili e boh se arriviamo al livello 2 se arriviamo al livello 2 niente perché manca un se arriviamo al livello 3 che cazzo faccio? 2 ore di live sto qui fino alle 11 però dobbiamo arrivare al livello 3 se no un'ora fino alle 3 di 9 allora se arriviamo al livello 5 sto fino alle 3 di notte Michi però dobbiamo arrivare al livello 5 5 se arriviamo al livello 5 questo fino alle 3 di notte ho i miei dubbi che ci arriveremo ma se ci arriviamo 3 di notte guarda mi metto a giocare alla switch con la telecamera sopra perché è un casino switch 50 sabb 24 ore adesso no muoio la 24 ore se vuoi la farla organizziamo ma tanto non arriveremo neanche al livello 2 se arriviamo al livello 10 vi regalo un paio di calzini con il codice pelati su panche sì ma che cavolo facciamo con Umberto fino alle 3 vabbè tante cose belle non so guardiamo gli omnibus prendo una scatola di fumetti e li guardiamo insieme presto usate il codice pampling su pelati e fumetti avete degli esclusivi calzini omaggio e volete comprare magliette bellissime come questa oggi l'ho spiegata mia zia ci si è impiegato un po' a spiegargliela però alla fine l'ha capito ciao teo sfogliamo l'omnibus di terra x a livello 10 sfogliamo l'omnibus di terra e ma non ne ho così tante di scatole lo vediamo abbioccarsi verso l'una e mezza è probabile la zia ha comprato delle magliette no mia zia non compra online è troppo pericoloso e complicato a che livello per sfogliare di un patro eh chi lo sa facciamo il video collezione è poi difficile fare il video collezione in live però vediamo demon slave mi faccio bannare guardando tutto demon slave con i tipi che vengono leccati e boh è bello di demon slave comunque sempre contenuti molto edificanti eccolo hai letto qualcosa di giundo che consiglieresti non ho letto niente di giundo 3 sub facciamo strisciare un po' eh no niente sta per fallire il livello 1 dell'hyp train lo facciamo strisciare un po' no xeno allora era livello 3 2 ore cioè fino alle 1 all'una livello 5 fino alle 3 di notte livello 10 incredibile bellezze no no anche a livello 2 rimango ancora fino alle 10 poi me ne vado a dormire oppure guardiamo insieme dottoressa pimple popper eh io leggo initial devo finirlo initial d cazzo devo ricordarmi di finirlo mi ha preso tantissimo lo ammetto non so se compro il 2 sono un po' indeciso non so cosa sia la dottoressa pimple popper Dario non ne ho davvero idea comunque visto che ce l'ha chiesto carada io gli voglio bene Demon Slave un manga bello no non l'ho ancora letto un manga bello donne che leccano uomini eh donne che fanno massaggi a uomini donne vestite in modo strano donne che siano personaggi secondari sono bruttine perché sono personaggi secondari nooo l'hypetrain è fallito andrò a letto alle 10 ehm no poi mi bannano un betto però guarda solo perché sei tu ti faccio vedere eh la figlia che pomicia col tipo è la madre che va dietro e gli dà dei consigli ora la figlia almeno era obbligata dal potere costringente lei no che bel manga eh che bel manga un capolavoro capolavori della chi è che mi sei però gas gas dovevi sabbarti prima ti sabbavi prima facevi scattare l'hypetrain maledizione meglio è per me a me va benissimo così però grazie piporitto eh però no in realtà è un manga pieno di scontri vedete scontri potentissimi con i poteri più incredibili ehm le mazze poi ci sono i demoni che attaccano la città è il tuo manga esattamente esattamente l'autorine ha iniziato uno nuovo perché questo non gli bastava ma in demoslave ormai la trama è solo etchi no no ma la trama c'è solo che ovviamente col fatto che ogni volta che deve usare i poteri poi ci può mettere la scena etchi per forza non può neanche non metterla e questo è il fatto io mi sono ordinato un manga dove il protagonista sbora con diamanti e ci sono tre femmine che lo vogliono sedurre bello deve essere ah ok lo scrittore quindi Takahiro grande Takahiro e volevo fare una piccola considerazione ho preso una nuova edizione di Akira e Berse che sono bellissime di qualità però mi chiedo sono edizioni fatte per essere lette? a me il volumetto piace portarmelo in giro al lavoro al parco con queste versioni troppo ingombranti non si perde l'originale funzione del fumetto? ti direi di no Pignota se consideri Pignola se ti consideri che in Giappone i manga escono così e se noi confrontiamo un numero di U-Jump con un volume di Akira non c'è tutta questa differenza ecco se parli di Berserk sì sono d'accordo però Berserk è un'edizione particolarmente di lusso cartonata cazzi e mazzi però se vogliamo guardare non vedo tutta questa differenza da portarsi il volume deluxe di Akira è un volume di Weekly Challenge Jump ora questo è vecchiotto sì è un po' diversa la stampa ecco la stampa è un po' di qualità un po' più bassa quella di Shonen Jump quest'anno non l'ho comprato Shonen Jump è che non ci sono le donnine in copertina mi mancava cioè boh dove potevo in effetti è che alla fine sono grossi no su Jump non credo ci sia Jojo Lenz su Jump cos'è è tornato a fare roba su Shonen su riviste Shonen cioè non lo so esistevano Dario esistevano devo andarla a prendere la rivista italiana stile Jump è Young Jump è settimanale Jojo Lenz tra Montri no in Weekly non lo so però non è Shonen comunque perché come sapete perché come sapete Shonen sono quelli maturi ultra jump vabbè comunque ce ne sono 72 di riviste non hanno chiuso sì 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 hanno chiuso Zagor ma da mo' però non intendevo quelle comunque ma perché oggi mi fate correre che palle vi metto la sigla c'è un ragazzo molto fortunato pieno di Lego con un bel Lego si chiama Umberto ma per gli amici è pelati e fumetti tutti i giorni vi dice le cose nuove che escono e tutti i giorni vi monta i gumblack come si fa a non volergli bene perché lui è pelati e fumetti pe 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 l'adf o me c'è un ragazzo molto fortunato no niente non la trovate pensavo di avere sapevo dove erano ma non le ho trovate erano un paio di riviste molto in stile jump come formulazione vecchiotte ma non le trovo fa niente la prossima volta se tu hai compato win ever non mi sa di se penso proprio di cp ora ti sospendo Dario vaga ve le ricordate le riviste in stile shonen jump italiano avete visto quanto sono durate ecco ve le ricordate quelli che si lamentano perché su spider-man ci sono le storie di un altro autore di spider-man immaginatevi le riviste manga quanto può far felice i lettori io me li vedo tutti guarda ah no ma io non voglio leggere la storia di shon jombon spada di fuoco voglio leggere soltanto shin jin pin non so perché mi vengono i nomi cinesi ma così e il magico arco dell'amore saffico no le antologici in italia non funzionano più da anni eh ma invece la maggior parte della gente non vuole il nome del presidente cinese è proprio lui è un manga su di lui in cui il presidente cinese vuole cavalcare tutti perché hai la possibilità la possibilità peccato perché si no oddio se parli di di comics si i manga allora non ha senso fare le riviste manga in italia l'unico l'unico senso che potete fare le riviste manga è se fai una rivista manga con gli cioè che adatta una rivista mensile giapponese ma siccome non lo fanno cioè ai tempi star comics fece come si chiama express che tecnicamente era una sorta di piccola rivista manga alla giapponese qual era il problema che stampavano le cose di jump in un mensile cosa mai poteva andare storto se pubblichi delle serie settimanali in un mensile ora su express c'era one piece immaginatevi one piece pubblicato a ritmo di un capitolo al mese saremmo tipo a un quarto di one piece probabilmente no ldf ribadisco non le vuole nessuno la gente vuole cioè esiste si chiama marvel unlimited è più leggera di una rivista che contiene tutti gli spillati marvel si più o meno si è più o meno intorno a quando è iniziato one piece era una stranza era un'idea di merda e non so come gli è venuta cioè poteva funzionare come idea se prendevi storie nuove che in giappone sono mensili poteva anche funzionare ma sono andati a prendere quelle settimanali quale poteva essere il senso di quella di quella proposta editoriale secondo me i cappa si stavano drogando tantissimo comunque proseguiamo allora che bei fumetti ho letto questa settimana ma inizierei con questo il fumetto più bello della settimana forse no calvino è un test che fai pagare ai lettori mi fa un po' cagare come idea comunque no non era un test era semplicemente una rivista pensata in modo idiota cazzo di test è infatti l'ha anche chiusa comunque è fantastico questo spider coso che abbiamo una versione alternativa di spider-man che combatte contro gli uomini in mosca poi ci sono tutti i vari spider-man del multiverso si menano fanno le cose una trama bellissima Dan Slott qui dal suo meglio come vedete c'è sempre testa di martello nei panni di Peter Parker poi c'è la brillante analisi del personaggio di Morlun che Dan Slott dice che fondamentalmente è ormai praticamente un uomo ragno perché si è nutrito di uomini ragno per tanto tempo poi ci sono tutte le versioni vespizzate degli uomini ragno e bello devo dire una lettura che mi ha colpito tantissimo e finisce con una cosa che però non voglio voglio fare di spoiler sul finale di questa avventura bellissima ma la cosa migliore che ho scoperto non è una fanfiction è un fantastico fumetto di Dan Slott la cosa migliore è che nel prossimo numero il 17 abbiamo il terzo e penultimo capitolo di questa bellissima saga e il problema è che dal numero dopo inizia Dark Web e quindi il finale di questa bellissima saga arriva dopo Dark Web io non lo dico se qualcuno vuole scrivere un'affermazione sulla gestione di questa cosa la scriva pure io non lo dirò perché sapete che ho dei contatti compagnini molto intimi ma voglio fare i miei complimenti per la programmazione sempre i migliori ora due possibilità allora siamo troppo vicini non possiamo stamparla tutta di seguito benissimo facciamo un numero questa merda un numero Dark Web le alterniamo facciamo in modo che ogni mese ti leggi un capitolo di sta merda e un capitolo di Dark Web se uno proprio non c'ha voglia si legge solo Dark Web no facciamo i primi facciamo tre numeri di questo poi Dark Web e poi no no ovviamente no è Dan Slott no 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 Dan Slott va avanti figuratevi tutti lo amano in Marvel lo amano Dan Slott non è una non è odiato gli americani impazziscono per sta merda perché non capiscono un cazzo ah in compenso se sperate che Zeb Wells vada molto bene Marvel ha indicato a Zeb Wells di evitare di andare alle convention nei prossimi mesi perché con quello che ha scritto sanno già che probabilmente lo minacceranno di morte i fan americani per cui andava benissimo proprio ora ovviamente non è che do ragione ai fan americani che li minacciano di morte però se fai incazzare i tuoi stessi fan forse c'è qualcosa che non va nella tua run ma niente alle pods tanto per cambiare hanno sputtanato di nuovo Peter e il rapporto con tutti i suoi ho letto un paio di spoiler che fanno accapponare la pelle su cose già pubblicate e penso che e pare che nei prossimi numeri in uscita in USA ci sarà una rivelazione devastante e quindi Marvel gli ha letto evita perché già sanno che farà talmente tipo non so una rivelazione del tipo Peter non lo so ha tradito Mary Jane con la gatta nera e nel frattempo faceva delle foto pedo non lo so alla nipote non lo so o Peter ha ucciso qualcuno non lo so qualche roba orribile che farà schifo a tutti Gwen Stacy non è mai morta in realtà aveva preso anche lei in realtà quando ha fatto sesso con con Norman rimettiamolo in senso questa cosa in realtà ha guadagnato anche lei il siero di Goblin e quindi quando c'è snap non è morta davvero in realtà è nella bara ed è viva non lo so sto ipotizzando cose che possono fare incazzare non lo so è il ritorno del commissario stessi non è mai morto perché in realtà era Hobgoblin Peter se la fa con allora Peter spiava zia May mentre zia May faceva l'amore con Jonah Jameson storia storia gay fra zia May e la zia Anna è ancora viva la zia Anna non mi ricordo quella di Mary Jane non mi ricordo zio Ben non è mai morto esatto zio Ben in realtà è zia May e vendeva le foto su OnlyFans sì ecco ce l'ho ce l'ho Peter faceva porn revenge porn su Mary Jane fotografo faceva le fo e poi le metteva in rete Peter in realtà Clark Kent anche zio May inizia a fare cross-dressing come zio Ben anche beh allora perfettamente uochissimo zia May scopre di essersi sempre sentita uomo e da quel momento sarà lo zio Ben bellissimo si è fatta la gatta nera e la cagna bianca con l'arco saffico vedo che hai ripreso l'arco saffico il primo bravo mi è piaciuto bravo si vede che segui le live con attenzione comunque non oso immaginare cosa sarà di così oppure una stronzata giusto per far salire l'hype Alfred muore esatto zia May è Alfred zia May si toglie la parrucca ed è sempre stata Alfred eh già già Dario no l'HollyFan l'avevano già detto stai riutilizzando le idee perché è solo una di queste ipotesi e non tutte giusto daltronde c'è un multiverso di possibilità zia May è la madre di Bruce Wayne non è mai morta ha cambiato universo in realtà la pistola del ladro di di è così in realtà Marvel ha comprato DC e si scopre questa cosa zia May è Bulma del futuro anche bello se vi sono con Black Hat ma io questa cosa credo che non la odierebbero così tanto i fan comunque proseguiamo lasciamoci alle spalle le bellezze di Dan Slott e parliamo di un manga bellissimo anche Michael Keaton non è male My The Stop Darling 9 che per dimostrare quanto il Giappone sia vicino alle battaglie italiane dell'occidente la prima metà dell'albo è tutto sul fatto che lei è un po' ingrassata e quindi deve mettersi a dieta per forza perché se no muore cioè vedete ha un po' di pancia quando indossa questa cosa e quindi è devastante è una delle cose che se la scrivono in un fumetto occidentale l'autore viene tipo defenestrato e licenziato immaginatevi lo stesso fumetto su Mary Jane allo specchio che dice oh mio dio poi tutti glielo dicono tra l'altro tutti glielo dicono cioè lei va tipo e parla con gli amici e l'amica gli dice ma non è che sei ingrassata bene hai preso qualche chilo scherzi sei una modella dovresti prenderti cura del tuo corpo già sai cosa devi fare prima che arrivi l'estate vero no non le chiedono se sei incinta e poi non le si chiude perfettamente il cosplay che tra l'altro non vorrei farglielo notare ma è giovane e ha delle tette giganti per cui magari le sono aumentate le tette però però questo le si chiude meno male esatto glielo dicono in due cioè prima glielo dice uno e poi glielo dice anche un'altra quando ti ho visto a cambiarti per metterti il completo sono rimasta un po' spiazzata sembravi diversa da quella volta che siamo state in spiaggia vabbè poi si scopre che in realtà lei è ingrossata perché quando va a mangiare da lui si mangia gli avanzi mentre torna a casa no ma non è che sono delicati su certi temi è che fa ridere perché c'è e poi c'è tutto quel discorso sulla macchina fotografica e prima dice che è una reflex e poi che è una mirrorless io mi sono molto offeso da fotografo e poi vanno a mangiare i dolci ma lei non li mangia perché è grassa vedete che è grassa si vede che è grassa no? non vedete com'è grassa? grassa magari ne sono due fagioli quelli fermentano non è divertente secondo me tutte le donne del mondo pagarebbero per avere un fisico come il suo è probabile le poze ma non è grassa fa la modella ma più che altro tu lo puoi fare questa cosa però se fai passare il contrario cioè il discorso ehi non ha così senso che è una ragazzina che comunque è un fisico della madonna e gli rompi il cazzo solo perché fa il boh no non è più 76 secondi perché adesso non c'è più Kate's no ma anche a me piace Maddestop Darling non è brutto anche se mi rompe un po' il cazzo quando parlano per sei capitoli di cosplay ecco nel senso questo cosplay va fatto analizzando la stoffa e bisogna cucire con un doppio drappo che cazzo e comunque detto questo come vedete ci sono più dialoghi rispetto a come era ai tempi quando c'era solo Kate's vedete che è più dialogato nel complesso per cui però è un bel numero mi è piaciuto ah tra l'altro non vi ho detto una cosa scusatemi vedete den slot no non male ragazza l'altro strange sa che gli rubi il mestiere via la ragno maggiore è venuta prima perché pensi che il doc intrecci le dita come se usasse il lanciaragnatele lei è una ragno maga e praticamente ha detto che la magia è nata con il ragno verso che fa le cose magiche allora Peter le chiede lei dice no ma l'aragno magia è venuta perché poi ma lei è arana è aragna tra l'altro no è una spider girl no no è proprio lei è aragna che è diventata anche maga cioè tra una pagina e l'altra è diventata una maga aragna che è quella cosa non so che l'avete mai vista è un personaggio dell'universo Marvel vero è diventata maga sì l'universo beh l'universo beta ci sta è una di quelle robe un po' metafumettistiche ci può anche stare PicPak ma allora anche questa probabilmente vuole essere una battuta metafumettistica però minchia a aragna è la fumettistica in realtà è alla spagnola è a aragna aragna però è la n con la con la cosa sopra comunque carino il numero di Hulk mi piace sempre non è male si fa leggere belli disegni come sempre vabbè Hotley decisamente ci sa fare e sui personaggioni poi gli riescono particolarmente bene vediamo come si concluderà mancano due numeri giusto mi pare poi nel prossimo torna titan per cui va bene poi capolavoro assoluto skeleton knight in another world wow che bello che bello ve lo consiglio non fatevelo sfuggire perché proprio fumettone non lo pronuncio ogni ma gn aspero gn che cazzo vuol dire aragna aragna vedi aragna eh non gn gn ok e boh questo manga fa schifo aragna ma no se no non metterebbero la cazzo di cosa sopra scusami eh non ce l'ha vuoi dire poi vi ricordo guardate quanto sono quanto sono brutti i nuovi personaggi sono una roba di un imbarazzo importante comunque capolavoro assoluto skeleton knight in another world non lo consiglierei il mio peggior nemico questo qua va bene solo se siete dei super super lettori di isekai lo compro perché comunque essendo a me a me divertono gli isekai mi divertono i fantasy quindi è una minchiatona e lo leggo però è proprio bruttino eh è proprio bruttino non ve lo suggerisco a meno che cioè a meno che appunto non siete super fan leggete tutti gli isekai che escono tra l'altro quanto sono brutte queste viverne sono delle sorte di viverne opese che non si sa come volano sono brutte non ve lo consiglio no però ci sono le donne animale incinte poi che mi manda delle notifiche che mi scrive sono in live ciao benaco ragazzi della sub è una scatola della road dove le ha acquistate su ebay su ebay porca puttana sapete che non rispondo alle domande quando sono in live se avete tempo da buttare siete sul mio canale venite in live ciao ecco dove puoi farmi le domande direttamente e sempre insieme ah 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 chi eh what ah ciao noi ciao bella e dicevo dicevo wolverine evviva io non voglio esprimermi su questa run di nick persi sul wolverine controllato da bestia che è diventato tipo il più cattivo di tutti i mutanti ma boh io spribalisco spero che prima o poi persi a un certo punto ci dica ehi il motivo per cui la bestia fa così è questo perché è totalmente fuori personaggio ma proprio eh non è che x4 sia meglio eh anzi poi sono pure un po' incrociate per cui il 26 alla fine ma di cosa crada di di Wolverine non mi pare cioè è sempre persi poi oddio bellacore smentito smentito fino a un certo punto cioè nel senso lo dice pure Marco Rizzo alla fine dice tra le tanti le ipotesi che durante la risurrezione il backup mentale di hank si sia fuso con quello di bestia nera che è lo stesso individuo proveniente dalla dimensione dell'era di apocalisse saga in cui era malvagio potrebbe anche essere però ovviamente siccome Marco Rizzo non capisce un cazzo di mutanti ma è evidente ci dice eh appena ricordare che in passato hank ha compiuto tante scelte discutibili dalla sperimentazione di un fiel siero su se stesso perché sperimentare un siero su se stesso è esattamente come eh utilizzare Wolverine per compiere omicidi senza la sua volontà eh praticamente creando una nuova versione di Wolverine dopo averlo ucciso perché l'ha ucciso e e usarlo cioè una sorta di versione meno mata di Wolverine più stupido e usarlo come ehm assassino ma quella stessa cosa poi cos'è che ha fatto di altro ehm ah sì durante l'M Day quando tutti i mutanti erano stati privati dei poteri si è rivolto anche a dei cattivi per cercare una soluzione sì ma si è rivolto a dei cattivi non doveva non doveva parlarci eh De Partidos è una serie è una serie è un fumetto seriale serve non vuol dire niente vuoi avere una vuoi avere una visione completa della fresco di Hickman sì serve non vuoi averlo no no serve non sono storie non sono storie ma puoi anche saltare degli episodi ma ribadisco non è questione di mi è stata utile o no e sono fanno parte delle storie che Hickman ha scritto durante il suo ciclo per cui sì ma anche gli episodi singoli degli X-Men alcuni sono cioè poi tanto il finale non esiste per cui oppure e non dimenticare la sua pericolosa manipolazione del flusso temporale quando portò nel presente i 5 X-Men fondatori sì ma non era la stessa cosa non li ha uccisi non li ha manipolati cercando ha cercato di mettere a posto una situazione terrificante dei mutanti di quel momento in un modo un po' senza senso ma lì perché Bendy si ha scritto una minchiata però non era mai cattivo in quella serie anzi cioè era proprio che lui ci teneva agli X-Men e cercava un modo per far tornare a posto le cose e quindi è proprio qui è proprio il contrario cioè Hank è sempre stata una sorta di persona dal grande cuore poi per carità era uno scienziato e ha sempre cercato di utilizzare la scienza il più possibile ma in modo comunque positivo alla fine non per boh ammazzare i nemici usando Wolverine come un sicario psicopatico cioè non ha proprio senso è proprio una rappresentazione del personaggio che non ha se non appunto quello della bestia nera però insomma boh non lo so ma era così una volta la serie animata fondamentalmente si basa sulle storie di Clermont eccetera per cui la bestia è stata un Avengers cioè non è che è stato un boh è sempre stato un tipo allegro solo che Persia ha deciso questa roba a caso cioè all'improvviso bestia è un matto totale poi per carità si fa e ogni tanto lo fanno però cioè quando hanno reso Ciclope sempre più estremo aveva senso non era un completamente uno stravolgimento del personaggio e c'è stata una gradualità qui all'improvviso è un matto totale così comunque torniamo a cose belle perché Tekken reincannato in una spada è bello più carino di questo però anche questo non è proprio proprio un capolavoro oh cazzo che cosa bella oh cazzo sono gli scontri è carino alla fine questo si fa leggere mi è partito il messaggio ok e br ma parliamo di uno dei nostri scrittori preferiti Duggan con X-Men 18 19 dopo perché non è lo stesso autore è un numero così bello che non me lo ricordo più ah sì giusto c'è sinistro che mangia della carta c'è ma tra l'altro basta tutti i personaggi sono sotto sotto hanno dei piani terribili forge sotto sotto è un po' stronzo e ha dei piani terribili bestia è stronza dei piani terribili sinistra è stronza cioè scrivono tutti le stesse cose e vabbè c'è questa cosa della cittadella all'interno del flusso temporale alterato forge che c'entra dentro fa cose c'è una scrittura terribile di scott e alex per carità il povero avok alex summer ha un problema e qui scuso dagan perché il problema di alex è che nessuno sa più come scriverlo perché gli hanno fatto fare di tutto e il contrario di tutto cioè lui una volta è finito in una dimensione alternativa in cui ha sostituito l'alex di quella dimensione e c'era tipo tempesta vampira la bestia con gli zoccoli e altre cose strane era sposato con Madden Empire la regina dei goblin poi è tornato poi l'hanno fatto diventare nazista cioè perché c'è stata l'inversione ma lui era rimasto malvagio ora forse è di nuovo buono ma non si capisce c'ha un elmo terribile sì è veramente brutto cioè almeno l'elmo non glielo metterei ma poi qui non si capisce perché litigano tantissimo cioè si comportano come due ragazzini in teoria dovrebbero averle superate queste cose ma no sono di nuovo due ragazzini che litigano e rischiano tra l'altro di distruggere tutto perché lui dice di trarre un pugno a Scott fargli saltare il visore che tra l'altro madonna questo cazzo di visore magari farlo un po' meglio in modo che non salti via con un pugno come idea e ovviamente libera il cattivone e poi riescono con difficoltà a rimetterlo a posto detto questo gran bel numero vediamo dove vuole andare a parlare Duggan e dove andrà a parlare Duggan lo scopriremo non nel numero dopo ma fra un mese probabilmente no il problema di X-Men è Duggan cioè di X-Men la rivista X-Men è Duggan prima c'era Ickman prima di Ickman a me andava benissimo poi Ickman se n'è andato è arrivato Duggan sì il problema in questo momento è Duggan ma non è Duggan in realtà cioè il problema Duggan fa schifo non sa scrivere io non so la gente che sostiene che Duggan sia un bravo scrittore è imbarazzante ciao agli amici della cos'è la soffitta del fumetto il primo di Ickman era illegibile e Duggan è mediocre sugli X-Men non è neanche così male a parte certe uscite come quella di Dottor Stasis però vorrei capire Dottor Stasis se l'ha inventato lui o se o discute con Gill e ne sono amiconi perché è una cosa che stanno portando avanti insieme per cui magari gliel'ha detto Gillen cioè Gillen di Metter cioè non lo so oppure a Gillen è piaciuto talmente tanto questa minchiata che ha detto scusa Duggan non è che posso usarla io nella mia nuova maxi saga bellissima I piaccati di sinistro perché mi sembra un'idea geniale quella che ha avuto vi ricordo che l'idea geniale ve la faccio vedere dopo poi vabbè è uscito il 19 vabbè il 19 è un annual con Firestar come protagonista vabbè ci sono lei e Ciclope che fanno delle cose si legge niente di che non è brutto né bello però c'è una cosa che mi ha fatto ridere a me Deadpool fa cagare di principio Anton D.H quindi non so come puoi dire cioè le storie di Deadpool non ce ne sono piaciute mezze nella vita per cui boh trovo che il 99% degli scrittori di Deadpool non dovrebbero scrivere Deadpool perché Deadpool nessuno lo sa scrivere in America perché vogliono fare un fumetto comico senza essere dei comici non riescono non fa mai ridere Deadpool sì vabbè è un alla fine questo è un annual per parlare un po' di Firestar che la gente non la conosce per entrare un po' la cosa che mi ha fatto molto ridere aspetta c'è un'immagine col suo costume vecchio non mi ricordo dove stava era tipo un flashback ah sì ok ho capito dove era perché deve essere qua dove c'è F-Turbine eccolo qua qui c'è il suo costume vecchio no? che per carità molto anni 90 non è il top della vita c'aveva gli occhialoni eccetera questo e c'è questa parte in cui c'è Jumbo Carnation che è tipo lo stilista mutante che fa oh no che schifo gli occhiali e la cosa ora il suo costume attuale è questo ma qua non si nota bene ma il suo costume attuale è questo che per qualche motivo ha una stella marina sulle tette ho capito che è Firestar ma sembra una stella marina questo è il bellissimo costume del geniale stilista mutante vabbè Hulk però è quasi finita sì comunque Daredevil mi sa di sì sono le tre serie migliori del momento anche se Venom non è che sia proprio un po' alto e basso però ci sono gli X-Men Babies Zombie in questo numero è la conferma di quello che avviene nei numeri precedenti oh no siamo tutti depressi moriremo tutti che vita di merda sapete la cosa più terribile di questo fumetto che tu leggi questo numero e dici madonna siamo alla fine tra l'altro alla fine c'è la preview del numero prossimo è il ragazzo si avvia verso l'abisso e quindi uno dice minchia siamo praticamente alla fine no in Giappone sono al numero 12 questo è il 6 in corso che cazzo raccontano in altri 6 numeri più ah tra l'altro la ragazzina grazia sembrava l'unica normale no non so bene perché a un certo punto lui le vomita addosso lo scrittore lei va a farsi il bagno e poi si fa questa foto non so perché per vendetta per ricattarlo non lo so sembrava l'unica normale non lo è non lo so non ho ancora letto il primo numero poi beh arriviamoci parliamoli a questo punto l'abbiamo detto oh che bello Dagan e Ewing sulle fantastiche serie mutanti no oddio la parte di Ewing non mi dispiace nel complesso non è che sia proprio la roba migliore che ho letto però si fa leggere le idee ci stanno il problema è Dagan cioè Gillen Gillen io non so cos'è che perché odi così tanto i mutanti e perché debba retconnare tutto quello che tocca e perché costantemente quando Gillen scrive gli X-Men deve andare a buttarsi su modificare tutto quello che sappiamo di sinistro e renderlo ogni volta un personaggio peggiore del precedente umbetto umbetto grazie la Biale per la sabbara e se chiedetevi cosa intendo intendo questa merda spero sia chiara per i non allora per i non fan sinistro è sempre stato questo tizio che aveva in fronte un simbolo rosso che era una sorta di diamantino lo vediamo anche qua no no non è un simbolo rosso così è proprio il segno delle carte e quindi probabilmente dopo che abbiamo visto quell'altro che aveva i fiori o il picco non mi ricordo che era il dottor Stasi evidentemente ce ne sono quattro in giro no PicPak perché non è solo banale è una stronzata è un'enorme stronzata perché sinistro è un personaggio che ci pompiamo in giro dagli anni 90 non è un personaggio nuovo che tu dici ne abbiamo inventato questo personaggio no il fatto che all'improvviso tu mi dici che ma sai che quel quadrato lì che aveva in fronte è il simbolo delle carte e non c'è solo quindi ce ne sono quattro c'è anche quello dei cuori dei cuori delle picche dei cuori dei fiori delle picche ma vai a far tra l'altro siccome a Gillen piace così tanto questa cosa che aveva fatto un'intera storia in cui tutti diventavano sinistre quindi c'erano tantissimi sinistro sempre storie in cui tra l'altro erano collegate ai celestiali ciao sono Gillen prendo personaggi classici e li sputtano perché? perché non ho nessun talento no perché sono un vero figo yeah in realtà sono nove Oxino non l'avevo resettato e se ne ce ne arriva un'altra lo faccio e con tanti sinistri le assicurazioni si disperano è vero è vero effettivamente i cloni sono un'ottima idea ma poi c'è anche tutta questa cosa del fatto che sta roba che non ha senso per come la racconta ma tipo Calvinoe ma è una di quelle robe che hanno messo dopo a caso in questo numero che è tutto che non è neanche un brutto numero c'è il fatto che lui crea i cloni di di Moira e li usa per resettare il tempo ma non si capisce come funzioni cioè lui ammazza il clone e torna dentro nel clone no non ci sta Avvocato Tommy cioè a me qua sono cadute le palle cioè seriamente qua a me sono cadute le palle questa scena qua di loro che trovo a parte che loro non hanno sempre saputo evidentemente perché cioè ah no però in effetti lei è cieca effettivamente che cazzo sta guardando è cieca scusate però è vero forse non era cieca ancora eh raga effettivamente che cazzo sta facendo cioè lei va non vede una porta rotta perché è cieca apre una porta rotta non so come perché è cieca e guarda dentro ma è sempre cieca forse vede attraverso il te ma allora è come se non fosse cieca boh non si sa umberto umberta eh pippa che non farti domande ciao che va eh no se lo scrive in realtà cioè all'inizio lui dice che lo scrive in qualche modo non mi ricordo come è che lo spiegava da qualche parte che tipo si segnava le robe tipo per capire a quale interazione era non mi ricordo falsa invalida capiamo potrebbe essere ah e ora devo pagare dei soldi grazie diceva grazie per la sub grazie per avermi fatto pagare dei soldi domani lo facciamo adesso non sono inizio a farlo adesso anzi sono già le due io le devo chiudere c'è un sacco di qualche palle vedete vi odio vi odio tantissimo costretto a fare a stare qui per ore e ore e ore basta non parliamo più di sapete che non è brutto quanto pensavo ok non è che sia il capolavoro della vita e devo essere sincero non me ne frega neanche così tanto di andare avanti a leggerlo però quantomeno è un minimo originale rispetto a tante altre robe che si leggono ora ha questo problema di avere questo look da manga per ragazzini boh no in realtà allora parte come idea come clone di Worst i disegni non sono neanche male devo dire che non mi dispiacciono cioè fa anche un po' li fa anche belli dettagliati fa delle belle ovviamente quando ci si mette ma in realtà è molto diverso da Worst perché il concetto qual è a dispetto del classico fumetto di gente che si mena lui io sono il più forte di tutti quindi mi scrivo al liceo dei più forti di tutti entro nel liceo dei più forti di tutti per picchiare il più forte di tutti però poi scopo che il più forte di tutti è più forte di me ma poi mi alleno e divento il più forte di tutti esce Val puoi comprarlo la ristampa esce la ristampa a 7 euro fra poco quello senza blind pack e se no compralo da chi ne ha comprate 25 copie lo compri tipo a 3 euro secondo me te lo vendono e fondamentalmente invece lui scopre che il liceo non è come se l'aspettava è più bello seriamente preferisco i manga a 7 euro così che i manga a 5.20 di merda almeno sono belli sono belli da mettere in libreria e via se devo essere sincero però non credo che abbiano floppato non lo so non ho idea in realtà perché è il first è bello perché hai impostato in modo che faccia vedere il simbolo di primo subber invece che quello di creare ma lo puoi scegliere tu c'è l'opzione sotto da qualche parte non so dove è fra le opzioni di visualizzazione dei badge no non sei sei fra i primi cioè quello del first è fra i primi che si sono sabbati fra i fondatori del fondatori dei sub fra i sub no sai cosa può essere mi sa che con la partner ne fa vedere di più con la partner mi sa che ne fa vedere di più e quindi ci sono più first forse per quello prima avevi credito e adesso hai il first in automatico se era un po' che non ci facevi caso può essere non ne ho la certezza però può essere comunque detto questo bellino la cosa divertente appunto è che in realtà il liceo che si sembrava il liceo dei teppisti in realtà è un liceo in cui le persone che vanno a questo liceo fondamentalmente difendono il quartiere fanno le ronde per cercare di evitare tipo i i teppisti che distruggono il quartiere quindi sono molto amati e quindi è carino grazie Giova per cui alla fine non è male fatevi una possibilità se avete voglia di una roba comunque alla fine di lotta perché mi sa che poi diventerà la solita roba in cui ci si mena perché subito alla fine capitolo arrivano i cattivoni poi vediamo un po' come sarà però graficamente non è male cioè sono belli anche gli sfondi vedete comunque queste visioni interessanti di un Giappone interessante non male poi torniamo a Gillen no perdona Percy con X-Force no comment sulla storia di qui che cos'è cosa sto guardando cosa sto guardando ma soprattutto cosa sto guardando tra l'altro guardatela bene questa scena Wolverine arriva c'è questo dinosauro seduto dinosauro seduto ma in realtà lo stavano mangiando gli altri dinosauri vedete certo va detto che non sono veri dinosauri perché sono nella sala cioè sono nella stanza del pericolo praticamente la stanza ombra e non si capisce perché nella stanza ombra dei dinosauri mangiano un altro dinosauro seduto si poi Wolverine arriva ma c'ha le punte vedi lo usa come arlo una storia veramente di merda una roba di un imbarazzo importante un po' più imbarazzante questa vabbè no e invece qua torna il pirata senza naso che Percy adora l'ha creato lui e ogni tanto lo riciccia fuori in ste storie ma non è Gillen è Percy beh ci sta Pinnaco ma uscirà davvero il film di Kraven e quello di El Muerto uscirà qui allora il tema di questo è c'è l'alieno senza naso c'è il mutante senza naso qui sembra avere il naso in realtà ma perché è un copri naso tipo qua non ce l'ha vabbè e poi c'è l'altra trama principale è Sage alcolizzata che si addormenta ubriaca e lascia quasi morire Domino boh l'ha introdotta nei primi numeri di questa run di X-Force ma ogni tanto torna cioè sono 32 numeri e nei primi appare a un certo punto è di Aracco non nei primissimi ma forse i tempi di Ten of Swords o subito dopo non mi ricordo forse addirittura in Marauders appariva anche boh però no ho cercato e per la prima volta l'ha creato Percy per cui schifus e poi l'ho letto scusatemi mi fa casino questo coso è strano però Noisin sa scrivere i disegni sono fighi la trama è strambissima è un po' giallo con la magia e gli scontri e il sangue e la depressione non è male è uno di cui manga un po' particolari sia come scrittura che come tipo di innovazione però e nessuno lo sa Pignola questa è una delle domande che ci facciamo tutti su è il muerto però questo qua devo dire che non è male poi Nao Emoto a me piace come stile grafico si che ho letto Bleach ti pare che non ho letto Bleach Walter Bleach è il classico shonen alla Dragon Ball alla One Piece alla Naruto è bello è stato uno di quelli amati del suo periodo però rimane uno shonen nazzo di 20.000 numeri se hai voglia di leggerti uno shonen nazzo di 20.000 numeri si comunque questo è particolare lui è il classico ragazzino alla light però è piccolo gli altri sono più sfiegati di me io sono intelligente gli adulti sono delle teste di cazzo i miei coetanei anche peggio io conquisterò il mondo più o meno però per farlo mi servono i maghi e allora conosce la ragazzina maga che però quando viene uccisa diventa adulta questa è la trama vedete qua è adulta e fanno cose però non è male è particolare ci sta si 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 era uno dei tre giga infatti cosa ho detto un po' alla one piece naruto dragon ball è figo? si è una di quelle cose che devi leggere perché se no perché è il classico shonen super action figo però sono anche 74 numeri tipo mi pare quindi un assassino folle? no no lui no lui vuole solo conquistare il mondo in qualche modo per qualche motivo ci sono gli assassini in questo mondo che usano la magia per fare cose e lui ha stretto questa alleanza con lei che ha i suoi scopi anche lei insomma però è carino è particolare se amate le opere di Noisin ci sta se no ma io ho grande fan di Bleach ho ancora il portachiavi di Rangie poi oh si si che bello ho finito di leggere Judgment Day eh un po' ci stava effettivamente belli disegni belli disegni per carità c'è anche l'amico Ivan però insomma è un po' che non lo vedo Ivan in chat è ma poi è anche il finale cioè ma poi è anche sta cosa del ciao siamo gli eterni siamo eterni siamo un centinaio tipo siamo un centinaio di base non moriamo però quando moriamo la macchina purtroppo ammazza un umano per riportarci in vita il mondo che si solleva oh mio dio ammazzano un umano ma raga quanti umani muoiono gli eterni è chiusa la serie non so se torna prima o poi ma per ora è chiusa a me sta cosa del eh no no ma guardate che quando noi eterni torniamo in vita tecnicamente praticamente quasi mai perché siamo eterni e non moriamo moriamo solo se ci ammazzano con enorme difficoltà cioè però hanno ucciso Cersei Cersei sta uccisa poi poi sta anche sta cosa perché devi uccidere Cersei a caso sì la parte di Urano se la figa sono d'accordo è questo Nico cioè allora gli eterni sono 100 non muoiono di età non muoiono praticamente mai se non ammazzati con l'eterna violenza quando muore un eterno la macchina ammazza un umano per riportarlo in vita sì non è questo peccato incredibile cioè sul largo cosa delle cose cioè esatto ma non è che poi su 8 miliardi di persone ma poi non è che ne muoiono non è che dici gli eterni sono una razza che ogni ogni quando muore per morte naturale a 60 70 80 90 anni invece di morire un umano muore e loro rinascono no no loro sono immortali di base ammazzare così Magneto è una merda comunque se posso dirlo tanto poi torna prima o poi però sì gli X-Men ormai usano la versione anche per tornare a casa che poi se consideri che la versione degli X-Men è banalmente una clonazione e infatti finalmente forse ci arrivano a dirlo perché nel penultimo numero degli X-Men trovano un'altra Laura cioè loro pensavano fosse morta invece spoiler no non era morta e quindi dovranno venire a patti col fatto che ora ce ne sono due e sono entrambe vere in teoria però lo capisci che è una cioè il problema della saga di X-Men era questa è che tu non puoi cioè io non è accettabile che le persone accettino questa cosa cioè se tu domani vieni da me e mi dici ehi adesso lo sai che sei immortale perché se ti ammazzo io ti faccio un tuo corpo nuovo e ci metto dentro i tuoi ricordi quindi tu sei immortale io ti guardo e ti dico no ciccio io non sono immortale io sono morto poi se hai una mia copia che gironzola a me sono tanto contento ma non sono io è una mia copia che gironzola è proprio una roba che non ha senso sì sì no figo è avvocatomi però comunque mi sta sul cazzo non mi ammazzi se non mi ammazzi magnito così a caso cioè boh se rinasce magnito non avrai ricordi tanto fanno quello che vogliono comunque buh questa roba qui degli X-Men di Hickman per quanto mi sia piaciuta la saga la roba della rincarnazione l'ho sempre trovata un po' ridicola della resurrezione perché cioè non ha senso non ha senso soprattutto in un mondo Marvel in cui comunque non è che è la prima volta che inventano i cloni cioè Ben Rayleigh ha subito esattamente la stessa cosa Ben Rayleigh veniva ucciso e poi veniva riportato in vita quindi che cazzo si sono inventati i mutanti oh poi ho letto Earthgear carino Earthgear devo dire che non è un gran manga è il classico robot post-apocalittico l'ultimo ma non è rimasto ci sono i robottoni però è molto bellino visivamente visivamente mi piace un sacco e quindi lo leggo con piacere poi sono tipo quattro numeri e non finirà mai però vabbè sti cazzi però a livello grafico mi piace parecchio quindi divertente è molto stiloso a suo modo forse un po' vuoto mancano un po' gli sfondi però sti cazzi il design mi piace moltissimo quindi lo prendo un po' così come gioia per gli occhi poi la trama di per sé non è che sia fondamentale però non è male si fa leggere niente di ma no pignola ma Disney non fa allora non prendiamoci per il culo allora oggi c'è un problema ma non riguarda Disney riguarda gli Stati Uniti ed è ovviamente il politicamente corretto superimperante ma lì non è Disney è gli Stati Uniti che ci sia Disney o no è uguale per cui ma Disney non è non è Disney cioè nel senso Disney pubblica ha sempre ha avuto le etichette che non erano Disney per cui no non è che all'improvviso tutto è buonista nel senso che non c'è più il sangue o le omicidi o no il politicamente corretto non dipende da Disney ma non è vero Nico cioè non è riflesso degli USA quello cioè la gente ha il problema che dice Disney quindi Topolino quindi solo roba per bambini questa è una stronzata i fumetti Marvel non sono particolarmente più edulcorati da questo punto di vista sono edulcorati purtroppo dal fatto che al momento il media USA cercano in ogni modo di essere ultra politicamente corretti ma è tutto il mondo media al momento negli Stati Uniti ed è così c'è poco da fare e lo vedi ovunque lo vedi perché tu prendi il nuovo numero di Iron Man e nella storia di Iron Man in cui non gliene frega un cazzo a nessuno ogni due per tre ti tira in mezzo Riri Williams e tu dici ma chi se ne fotte di Riri Williams sto leggendo Tony Stark eh no eh Riri chi non adora Riri Williams nessuno spoiler nessuno l'adora sul cazzo a tutti con l'età però la mia idea è che il rendimento è cambiata adesso mi piace guardare cosa fanno i miei amici nei loro laboratori in questo periodo niente mi dà più gioia di ascoltare Riri Williams e il suo cervello galattico eeeh questi cosa sono i dieci anelli sono dieci effettivamente e non bastava questo eh perché poi lo ribadiscono questa cosa non mi ricordo dov'è che qua mentre combatteva tipo 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 no lo insultavo gli dicevo le robe di Riri ma non mi ricordo lo vero prima che uccida quella brava ragazza cui fai da mentore mi dice se è una pupilla o una fidanzata con voi non si sa mai con voi maiali capitalisti ovviamente la risposta non può essere per prima cosa a quella donna non potrei insegnare niente a me non dà fastidio questo questo ci sta lui sta cercando di farlo incazzare cioè questa cosa qua è fatta apposta per farlo incazzare ma è questo che è terribile questa roba qua è di un imbarazzo e proprio perché no io non posso dire di essere di sapere più cose di Riri Williams perché Riri Williams essendo ragazza di colore in un fumetto Marvel è il punto più alto non solo della intelligenza ma anche della conoscenza lei ha la conoscenza infusa è un genio a 360 gradi nonostante sia un adolescente e io Tony Stark che sono quello che è stato nello spazio che ho inventato le armature che ne ho fatte di cotte non ho niente da poter insegnare a lei perché lei è Riri e a me sono queste cose che mi fanno cacare cioè è proprio questo genere di scrittura che è terribile d'altronde è è Jerry Duggan poi il numero è brutto no non è brutto non è neanche il massimo della vita però non è brutto però insomma no ma non è il suo mentore lui la osserva perché lei è geniale ma Miles era una bella idea cioè Miles funzionava perché comunque allora Peter era morto nell'universo Ultimate voleva un nuovo Spider-Man e non era male l'idea di prendere comunque un ragazzino vabbè in realtà Miles è di colme è mezzo afroamericano e mezzo di origine latina per cui hanno fatto bello mixer però era carina l'idea perché era un personaggio diverso era un personaggio più più giovane di Peter tecnicamente anche di quello Ultimate e funzionava era interessante vedere un approccio un po' diverso Riri nasce che è la geniaccia che si fa l'armatura da sola nel cosa di casa e che Tony regala l'IA di Iron Man perché sì un po' a me è giustani che poi non è uguale alla sorella di Ciala sì tecnicamente è uguale alla sorella di Ciala post film perché credo che adesso Ushuri l'ho letta sempre molto poco ma penso che all'inizio non fosse particolarmente scienziata però post Marvel Cinematic Universe sì sono praticamente uguali ma perché c'è questo problema in Marvel cioè hanno questa roba di fare le ragazzine geniali perché sì e c'è questa roba del sei giovane e donna e quindi devo far sì che questi personaggi siano i più fighi possibili senza difetti esattamente come la nuova Wasp però è brutta questa idea perché tu non crei un personaggio tridimensionale Peter ce li aveva i difetti cioè gli eroi Marvel nascono come supereroi con super problemi Tony ha sempre avuto dei difetti l'alcolismo aveva il fatto di essere un imprenditore rampante che vendeva armi Hulk non si può controllare Thor è un megalomane ed era diventava il medico col bastone cioè quelli nuovi più noto una volta no una volta i problemi ce li avevano sì cioè She-Hulk ce li aveva i problemi era She-Hulk oggi c'è questa roba per cui siccome bisogna fare i personaggi femminili perfetti ed è sbagliato perché così non crei dei personaggi tridimensionali crei dei personaggi che poi a cui nessuno si affeziona perché cioè dai comunque Sunspider è l'emblema di tutto quello che c'è di sbagliato in questo tipo di ideologia tu mi vuoi creare un personaggio supereroistico con una disabilità e decidi di fare una donna ragno che ha delle disabilità motorie e tu dici ma scusami ma come cazzo ti è venuta per questo rivoglio Great Like Avengers quanto cavolo mi piaceva Shulk è stata Renter beh oggi sì oggi ovviamente beh no in realtà Shulk bene o male ha sempre avuto questo problema del controllarsi anche nelle cose successive poi dipende cioè quella di Byron era diversa però ha sempre tipo c'era il problema che andava un po' a letto con tutti per un certo periodo che non è un problema però insomma per gestirti la tua vita un po' sì eeeh Ichi gran bel fumetto un finale un po' strano un po' veloce forse però funziona devo dire è stata una lettura piacevole tutti fuori di testa non mi è dispiaciuto devo dire ora non sto a starvi farvi grossi spoiler però affascinante alla fine è una lettura che funziona bellino e recuperatela teo è qua non so dov'è guarda qualche parte dietro di me alla fine è tutto nel volume cioè ti devi comprare giusto questo cioè c'è l'omnibus alla fine li vale sì 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 ci sta le pozze è piaciuto anche a me devo dire che è stata una bella lettura piacevole scorrevole assurda senza senso bello bello ci stava poi senza senso eh non è che uno ci può cercare chissà quali però non male non male tutta la costruzione funzionava non male poi abbiamo Mashal Mashal battle inutile proprio battle inutile ormai è il battle inutile c'è il solito uso il colpo super potente ma io sono forte quindi vinco poi c'è lui è più forte di me ma io mi sacrifico in nome dell'amicizia non c'è molto altro da dire sarebbe da droppare Mashal sono sincero però arriva la serie animata e quindi diventerà di successo anche Mashal in automatico eh no pignola purtroppo non è il one punch man di Harry Potter questo è il problema magari fosse il one punch man di Harry Potter cioè puntava ad esserlo probabilmente però non lo è stato poi vabbè abbiamo solo leveling 12 che non mi è dispiaciuto anche se è un numero molto di passaggio perché prepara il grande scontro fra tutti i potenti qui Hunter contro le formiche giganti cattive vediamo un po' dove va a parà carino un bel numerino simpatico belli disegni devo dire che sono diventati bravi a farlo stare in formato carta perché rispetto al primissimo numero adesso sembra un fumetto vero a vederlo così e non un webtoon trasformato però i dettagli sono molto fichi per cui insomma ci sta funziona non è che la trama mi piace è divertente non un capolavoro il problema di Marshall è che non fa ridere quanti capitoli ci sono non lo so dipende non ho la minima idea dove sono scritti i capitoli credo che dipenda comunque perché essendo in webtoon dipende da come lo fanno però non c'è scritto e non c'è l'indice non c'è l'indice e non c'è ci sono quattro pagine vuote ma l'indice non c'è ma ovviamente non dirò mai che è un errore di star o della casa produzione giapponese perché come sapete io sono prono alle case editrici viva le case editrici hanno ragione loro magari è un unico capitolo non lo so non credo boh mi sa di sì però perché guarda qui c'è il capitolo 16 e questo è il capitolo 17 però può essere che li rimontino quindi sono due capitoli 17 16 boh comunque non finirà mai se questa è la domanda e ogni volume italiano sono due volumi cioè è mezzo volume originale coreano ma non non credo che ne voglia parlare pignola è uno shonen credo sia shonen non ho idea di dove lo pubblicano il sentore di soul liter a mio avviso era davvero bravo il sentore di soul liter cosa c'è il sentore di soul liter mi sono perso ah ok ah solo leveling eh sì però fortunatamente l'ha finito almeno questo ok questo mi è piaciuto mi sta piacendo è carino fa un po' a me fa un po' coso per ora mi fa un po' break in bed se devo essere sincera ok lui non è malato però fa un po' break in bed lui è un uomo impotente che si è sposato una donna più giovane di lui con una figlia però lui è impotente però lei rimane incinta e lui non sa cosa è successo la notte di nozio non lo sappiamo neanche noi si scoprirà più avanti come è andata fatto sta che a un certo punto gli viene trova queste pillole di ma scusa ma è finita la novel pignola come fa non sono usciti nuovi episodi dicevo trova queste pillole anti cioè per favorire l'erezione che funzionano anche su di lui e quindi cercherà di riprodurle anche utilizzando metodi non legalissimi e sembra interessante non è male la lettura è piacevole i disegni vabbè sono suoi di Takashi devo dire che mi è piaciuto a chi li disegna poi non c'è più lui vabbè cioè qual è il senso di avere di noi capito un altro fuori oltre la storia cioè nuove però se poi li stampano in cartaceo a me va bene comunque è carino provatelo Jumbo Max se avete voglia non so dove siamo in Giappone penso che siano pochi numeri però mi è piaciuto in Giappone in Giappone sono usciti sette volumi già buono sette volumi concluso in corso in corso ah no sai il story ok vabbè ci sta sai il story vendono per cui li fai e l'ultimo fumetto che ho letto è Dracca di Federico Brumot e Lorenzo De Felici molto carino devo dire mi ha divertito c'è un finale un po' strano però è molto bellino visivamente molto interessante tanto cartoonish e tanto particolare molto diverso dallo stile attuale di Federici tra l'altro perché c'ha questi personaggi molto quasi da cartone animato è una storia vampiresca credo sia nato in formato francese diviso in due così a naso comunque sì perché sono due capitoloni non è la prima volta che arriva in Italia è una serie completa in un volume unico è figa lui è parte con c'è un boss della mafia di questa città New York però in un futuro lontano strano in cui ci sono strane creature tipo slimose e bestiazze mutanti che sta morendo e dice al figlio che potrà ereditare tutto ma solo uno dei due figli ereditava tutto solo che il secondo figlio non se ne sapeva niente ma vive in questa tipo Repubblica dell'Est mi pare ed è sto ragazzino che però è un po' vampiro è molto carino visivamente interessante molto violento molto action niente di straordinario a livello ovviamente di trama o di contenuti misteri però bello è una bella lettura e ha un finale che ti lascia un po' così ma che car è così bello sì sì è Lorenzo De Felici ma non Federici De Felici ho detto Federici De Felici vabbè Federici è totalmente diverso però se guardate anche Federici cioè se guardate questo e guardate questo lo stile è un po' diverso è uno stile molto più cartoonish però fico bello poi è sempre salda però spero comunque consigliato buonanotte buonanotte Anton Diak quindi direi che con questo abbiamo visto tutti i fumetti che ho letto questa settimana un po' di cose le ho lette non sono stato sbravissimo un po' sono riuscito a rimettermi un po' in pari a me non piace neanche la colorazione a me sì l'ho trovato piacevole particolare però non mi è dispiaciuto affatto poi oh degustibus recappone vabbè facciamo il recappone non sono gli acquisti però dracca jumbo max solo leveling martial ichi the killer iron man mastermind earth gear rizuka magical girl rizuka giorno del giudizio x-men x-force x-force windbraka immortal x-men immortal x-men boys ebis x-men con l'annual ho lanciato una roba via tanker va incarnato in una spada skeleton head in another world wolverine amazing spiderman hulk might rest up darling e demoslave che si è scaldato perché stava sul portatile ora abbiamo finito eh ma chi vi faccio un raid oggi che mi si riapre twitch non ho più twitch perché non ho più twitch aperto marzo stasettimana ci hai dato dentro eh devo recuperare un po' di roba prometto preferito della settimana non lo so non lo so non lo so non lo saprei non lo so non lo so buga micchi anime click cioè micchi farà le live mentre sono in live io ma pensa che persona che antipatica che antipatica se n'è andata per fare la sua live atipico ride a moccia credo che non mi si inculi se gli faccio il live mi eviterò eh recap of addio con qui lì non c'è molta gente in realtà facciamolo a buga dai buga mi sa più sempre almeno buga nonostante abbia mille mille persone in live mi saluta sempre quindi facciamolo a buga dai andiamo da buga che ci vuole bene e noi ci vediamo domani alle 18 come al solito domani non vi prometto niente però domani alle 18 di sicuro e vediamo le uscite almeno non acquistiamo il fumetto no lo faccio domani ricordatemelo però ciao potere pelato non mi sto vedendo non so se è finita se sono in pari però la faccio partire lo stesso ciao